Ok ragazzi, siete Chiara Ferragni e dal mese di dicembre, ovvero da quando il mondo si è reso conto che non avevate fatto esattamente tutta la beneficenza che avevate promesso con le modalità che il mondo stesso si aspettava, dovete affrontare una marea di problemi che vi rendono nervosa, dalla separazione di fatto degli ultimi giorni con Fedez, passando per il fuggifuggi di tutti i vostri clienti principali, compresa Coca Cola e Safio. E non potete scaricare lo stress neppure masticando cicche perché la Perfetti ha deciso di ritirare dal mercato l'edizione limitata delle Dengum con il vostro marchio e la vostra firma. E a queste condizioni che cosa potrà mai andare storto? In primo luogo le notizie più interessanti riguardanti il caso Ferragni della settimana sono tre, ma soltanto due di queste le più gossipare hanno ottenuto un relativo ampio spazio sui mass media. Iniziamo quindi ad affrontare queste ultime. Perché per l'appunto anch'io ho bisogno di fare visualizzazioni fra una rinuncia sociale e l'altra. Non è giusto, tira più un pezzo sulle cicche della Ferragni che una giornata di conflitto in Medio Oriente. E cioè il caso delle cicche scomparse e dell'eventuale separazione fra i coniugi Ferragni. Il caso delle cicche scomparse è più semplice da trattare. Molto banalmente Selvaggia Lucarelli va a fare la sua spesa settimanale al supermercato e si rende conto che dallo stand della cassa sono scomparse le cicche brandizzate Ferragni. Non c'è più infatti l'astuccetto d'egum rosa shocking. Quello che fino al giorno prima in virtù della presenza e del valore aggiunto dato dall'occhio femminile onniveggente della Ferragni cercavano di sbolognarti a 2 euro e 10 al pezzo contro l'1,60 canonico. Ebbene Selvaggia Lucarelli prende in mano il telefono, fa un rapido controllo su internet e si rende conto che la Perfetti, cioè la società dolciaria che produce e commercializza le degum, sta ritirando questa edizione speciale e limitata. Torna a casa e pubblica la notizia. Proprio perché Chiara Ferragni è un influencer e basta citare il suo nome per vedere schizzare verso l'alto le visualizzazioni, i mass media riprendono questo fatto e lo trasformano in una vera e propria notizia, e cioè diffondono la voce che dopo Coca Cola e Safilo anche Perfetti sta scaricando Chiara Ferragni. Il giorno successivo l'impresa dolciaria rende noto che la collaborazione con Chiara Ferragni era a tempo e che quell'edizione limitata di Cicche avrebbe dovuto essere ritirata dal mercato da almeno un mese o giù di lì e che molto banalmente il ritiro è stato graduale. In parole povere, secondo l'azienda non c'è alcun ripensamento né alcuna modifica agli impegni contrattuali presi. Molto banalmente hanno pagato la sponsorizzazione della Ferragni qualche mese fa, hanno creato una serie limitata di Cicche, hanno provato a piazzarla sul mercato a un prezzo un poco superiore rispetto alla media, ma sì, un 30% in più, cosa vuoi che sia? E adesso, terminata quest'operazione, semplicemente tolgono le Cicche più costose dal mercato e le sostituiscono con altre normali o in alternativa con altre serie limitate. E la cosa per chi mastica un briciolo di strategia aziendale è perfettamente normale. Intendo dire, se tu stringi un accordo con la Ferragni, non lo fai per guadagnarci chissà cosa sul prodotto che stai commercializzando, lo fai semplicemente per rafforzare il tuo brand. E cioè il tuo marchio serve per dire ai tuoi clienti ehi, guarda quanto siamo Bippi, collaboriamo con la Ferragni. Poi, naturalmente, ci sono anche operazioni come quella della Dolci Preziosi con le uova di Pasqua che ti portano realmente inutile e altre invece che comportano solo ed esclusivamente perdite, come per esempio quella del Pandoro Rosa con la Balocco. Queste Cicche hanno avuto una vita commerciale relativamente breve, come tutte le edizioni limitate di prodotti ordinari, e adesso stanno per essere ritirate dal mercato. Ci sono alcuni rivenditori che stanno cercando di piazzarle a prezzi addirittura inferiori rispetto al prodotto nella media, ma a quanto pare non ci sono riusciti, perché se fate un rapido controllo su internet potete ancora trovare queste Cicche all'incirca a un 20-30 centesimi in meno rispetto al prezzo medio del prodotto standard. Ma questo è perfettamente normale, esattamente come acquistare il pesce fresco a prezzo ultra mega scontato nelle ultime ore di apertura del supermercato il 31 dicembre. Il primo gennaio il supermercato è chiuso e quel pesce se non viene venduto dovrà essere buttato via, quindi meglio guadagnarci meno o comunque attenuare le perdite rispetto a perdere tutto. È chiaro però che con una notizia diffusa nei modi termini sbagliati a soffrire ancora una volta il brand della Ferragni, perché il messaggio che passa è che nessuno vuole avere a che fare con lei, il che poi magari è anche vero perché il suo punto di forza era per l'appunto la sua popolarità e il suo marchio con quell'occhietto rosa onniveggente. Le cicche infatti sono sempre le stesse, il sapore è sempre quello, la composizione chimica non cambia certo perché c'è fuori il marchietto della Ferragni. Molto banalmente il marchio della Ferragni è un modello di business che non funziona più, ammesso che in passato avesse realmente funzionato, perché ripeto, la strategia commerciale della Ferragni è prendere dei beni standard, rimarchiarli e venderli a prezzo maggiorato. È una cosa che nel lungo termine, a mio modesto parere, non può premiare. Il valore aggiunto infatti è semplicemente inesistente, nel medio e lungo periodo se ne accorgono tanto i consumatori che magari qualche tuo bene lo acquistano, quanto i tuoi partner commerciali, ai quali resteranno per l'appunto magazzini di beni invenduti. La seconda notizia gossipara della settimana riguarda una possibile separazione fra Chiara Ferragni e Fedez. Secondo quanto pubblicato da oggi, fra i due coniugi ci sarebbe area di crisi e quest'area di crisi sarebbe anche piuttosto stantia e risalirebbe addirittura a un periodo precedente lo scandalo dei pandori. E si starebbe manifestando soltanto ora con le vacanze separate le due strategie per rimettere in pista Chiara che non sono coordinate fra Fedez che sui social attacca frontalmente Mirta Merlino e la stessa Chiara che cerca di mantenere un profilo basso. Ora molte persone si domandano com'è la separazione fra due VIP. La risposta è che la separazione fra due VIP è infinitamente più facile da gestire rispetto a quella delle persone comuni. Intendo dire spesso e volentieri una coppia di coniugi fa fatica in Italia a tirare avanti. Abbiamo un 24% di persone in Italia che ha rischio di povertà e abbiamo un 10% della popolazione che è in povertà assoluta. Sono cifre enormi, vuol dire che abbiamo 6 milioni di poveri assoluti in Italia, il 10% della popolazione. I Ferragnez certamente anche se si separassero non andrebbero incontro agli stessi problemi quotidiani di una moglie disoccupata o di un marito che lavora part time e non ha modo di mantenere né una casa né i figli in modo autonomo. I Ferragnez hanno invece imprese che cubano letteralmente 30 milioni di euro da una parte e almeno 20 dall'altra. Quindi la loro unica preoccupazione, fermo restando il fatto che verosimilmente al momento del matrimonio avranno optato per la divisione dei beni e non per la comunione, sarà quello di stabilire quanto deve essere dovuto da un coniuge all'altro per il mantenimento dei figli, eventualmente perché la soluzione migliore per tutti in questo caso specifico, giuridicamente parlando, sarebbe quella che ognuno dei due coniugi si fa carico dei figli nel periodo che trascorrono con ognuno di essi. I tribunali infatti, in presenza di situazioni di questo tipo, che purtroppo per gli italiani diventano ogni giorno più rare perché è difficile trovare coniugi abbastanza ricchi, optano per soluzioni che sono igualitari e mettono letteralmente i due coniugi sullo stesso piano. Quindi se come un motivo di credere, visto che al di là delle apparenze stiamo parlando di due imprenditori figli di imprenditori, se Chiara Ferragni da una parte e Fedez dall'altra hanno regolato in maniera precisa e puntuale i loro rapporti prima del matrimonio e hanno optato per una separazione dei beni, grossi problemi non ci saranno di sicuro. Ognuno si riprende quello che ha intestato, anzi gli resta perché già ha intestato a lui e a lei, l'unico punto sulla separazione possono essere gli orari di visita dei figli e un eventuale mantenimento. Mantenimento che, come ripeto per la seconda volta, in questo caso potrebbe anche non esserci perché i due patrimoni sono relativamente elevati per ognuno. Intendo dire l'impresa di Fedez cuba 20 milioni di euro, quella della Ferragni, anzi le imprese della Ferragni cubano circa 30 milioni di fatturato. In una condizione simile, quale giudice stabilisce un mantenimento a favore dell'altro coniuge? Nessuno. Per quanto riguarda i figli, teoricamente è possibile qualche limatura, ma quando stiamo trattando cifre del genere non sono 50.000-100.000 euro l'anno il problema. Alla peggio smetti di fare beneficenza. Fedez in un anno ha girato 130.000 euro in beneficenza tramite la sua fondazione, per intenderci. Chiara Ferragni in teoria dovrebbe devolvere molto di più ogni anno e pare che finalmente abbia fatto quella famosa donazione da un milione di euro all'ospedale di Torino. Anche se non è chiaro sapere come l'ospedale spenderà questi soldi e quell'operazione suona tanto di washing, cioè un tentativo di ripulirsi l'immagine. A questo punto naturalmente qualche iscritto può domandare qualcosa del tipo ma avvocato allora se non ci sono problemi per quale motivo i Ferragni restano insieme? Beh, diciamo che non tutti i problemi devono avere natura giuridica, anzi per fortuna sono pochi problemi ad avere natura giuridica. Molto banalmente i Ferragni hanno a parte i figli una sola cosa in comune che li lega naturalmente a doppio filo, il loro brand familiare. Uno dei loro asset principali è per l'appunto la spettacolarizzazione della famiglia. Non a caso infatti li chiamiamo i Ferragni come fossero un'entità sola e ad essere pignoli anche Amazon ci ha costruito sopra uno show televisivo. Questo asset che è stato costruito nel corso degli anni immagino con notevole fatica e sudore nella fronte vale letteralmente milioni milioni di euro. Se i Ferragni si separano tornando a essere Fedez da una parte e Chiara Ferragni dall'altro perdono una risorsa notevole. Oltretutto dovrebbero perderla in un momento in cui i loro marchi individuali hanno sofferto per via della vicenda dei Pandori e della mancata beneficenza di uno dei due. Insomma ragionando criticamente e soprattutto freddamente anche in considerazione del fatto che sulla coppia potrebbe piovere una marea di melma e che le loro entrate potrebbero di conseguenza ridursi notevolmente nel comune interesse i due coniugi dovrebbero restare tali e optare eventualmente per una ininfluente sotto profilo giuridico separazione di fatto. I due sono abituati a vivere in appartamenti che fanno provincia. Il loro ultimo appartamento dove però non è stato rinnovato l'affitto, locazione, leasing o quello che è è di circa 800 metri quadri per intenderci permettono ai due di vivere anche da separati in casa. 400 metri quadri l'uno 400 metri quadri l'altra c'è spazio per tutti e oltretutto i figli se li possono anche passare perché direttamente da una porta all'altra. Questa è la soluzione migliore se operano con discrezione, questo potrebbe essere il vero problema per loro, i due potrebbero continuare a coltivare il prodotto Ferragnez facendo leva sui follower che li seguono come famiglia e non per altri motivi, motivi che verosimilmente non sono né la musica né le battaglie sociali. Questa è la loro soluzione migliore e al momento attuale quella che hanno praticato. Poi ben inteso è le voci sulle loro separazioni, attriti eccetera, possono anche essere state messe fuori di proposito per colpirli perché ripeto basta parlare dei Ferragni e fai visualizzazioni, le visualizzazioni ti portano entro i pubblicitari. Però la regola se ragionando freddamente dovrebbe essere questa. Poi magari sono la coppia migliore del mondo, sono unitissimi e sì ci sono i giornali brutti e cattivi che cercano notizie. Oppure ancora all'opposto, loro sono la coppia migliore del mondo ma come imprenditori semplicemente danno spettacolo simulando una crisi per attirare visualizzazioni sulla famiglia e allontanarsi invece dal disastro della beneficenza o dell'attivismo perché una volta che il tuo brand, brand, insomma una volta che il tuo marchio è la purezza, perso quello hai perso tutto. Diventi un imprenditore come un altro e la gente non riesce a capire perché deve pagare un trolley, il doppio, il triplo soltanto perché è rosa e c'è il tuo occhio, ogni vigente su, perché alla fine di questo stiamo parlando. Ultima notizia, Chiara sta tornando sui social, lo sta facendo in modo tale da avere soltanto riscontri positivi. Come fa ad averli? Semplice, ha blindato i suoi profili e solo le persone a cui lei ha messo lo follow, quantomeno su Twitter e probabilmente anche su Instagram esiste questa funzione, possono commentare i suoi post. Quindi Chiara Ferragni ha il controllo indiretto su chi può farle i complimenti e solo i complimenti. Riuscirà a riaffermarsi? Personalmente lo ritengo relativamente difficile ma è altrettanto vero che siamo in Italia e gli italiani purtroppo per fortuna hanno la memoria corta. Per il resto fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questa vicenda lasciando scritto qualcosa qui sotto. Se vi piacciono i miei video ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, condividere i link e mettere un mi piace grande e grosso. Se non farete tutto questo in un futuro alternativo, remoto e decisamente improbabile potreste ritrovarvi Fedez come sindaco consigliere comunale a celebrare il matrimonio vostro o dei vostri figli. Io vi ho avvisati, poi fate voi. Come sempre grazie di tutto per tutto e a presto.